Kate Middleton ancora ricoverata. Recarlo ha mentito, ecco la verità. Ricordati di supportarci iscrivendoti al nostro canale. Grazie. Kate Middleton ha trascorso oltre tre settimane nella London Clinic, ma l'oscurità avvolge ancora le condizioni della principessa dopo l'intervento addominale del 17 gennaio. Un velo di incertezza circonda la sua guarigione, creando una sorta di bolla protettiva che la tiene al riparo dagli sguardi del mondo. La notizia del ricovero è stata rivelata da Recarlo, che ha agito a suo dire come scudo per la nuora attraverso una nota ufficiale. Tuttavia, la cura per i problemi alla prostata di Carlo aggiunge un'ulteriore dimensione di preoccupazione per i fan della principessa del Galles. Una strategia di comunicazione che, anziché tranquillizzare, sembra allertare gli esperti reali. La tempistica dell'annuncio dell'intervento di Kate e la comunicazione sulle cure di Carlo hanno sollevato molte domande. Il comunicato sulla principessa è arrivato verso le 15 ore italiana, mentre quello su Carlo è stato rilasciato circa un'ora e mezza dopo, creando un breve ma intenso periodo di speculazioni. I sudditi, quasi privati del tempo necessario per elaborare le notizie, hanno notato anche la differenza di tono tra i due messaggi. Mentre Kate chiede privacy sulle ragioni dell'operazione, alimentando sospetti, Carlo infrange la tradizione della riservatezza sulla salute dei sovrani, parlando apertamente del suo problema di prostata. Ma sarà solo un diversivo?